Adesso signori, per dare inizio iniziamo subito subito con una bella cosa per noi, per tutti i santi cinesi Iniziamo subito con degli ospiti, sono due ragazze Aurora e Sofia Di Stefano Prego ci possiamo accomodare, facciamo prendere il microfono E mentre si aggiustano, si preparano Vi dico che Aurora Di Stefano ha vinto il trentasettesimo festival del fiore d'oro E più c'è Sofia con lei, faranno un duetto che penso che già tutti quanti noi conosciamo Quindi ci facciamo sentire, ci fanno sentire Parola poi il microfono, dicendoci la canzone come si chiama, vai Sandile Pure Sandile tutti tu insieme, Sandile Perfetto, a voi Sante ilieno paese La mantegna è casetta, vivendo senza nulla pietra Badi in cintare, tanti in cintare, Tanti e mancicata Tanti e mancicata, spontanea di perenziata E certamente un boccacata, croce bianca va vibrata Senti una voce serena, a fiori d'oro può cantare Se vuoi fare nel rompiqué, lo che sto da me senti Ma se vuoi fare lo che ha fatto lì, a tanta lì li ha de venire Entra che amè te fai canta, non teme mica maracana In Swin mind è come, lo perché chiede lì, a tanta lì, a tu soli La lupa sta paura un dolore, da la margheria farà un dolore. Nuo carnavalo fa' martin, iacchie giuvene fra vii. Prima settembre bancarelle, perché c'è tanta cosa bella. Pesce frita per l'andà, ce l'abbè pure la scuola. Nel porto l'omba, c'è l'argaro un brato preso un dio. La pavarelle, camnatella, e cuccio di potrella. Ma se vuoi palucchi a pallin, a santa e il è un giovanì. E se la santa non partete, allora siete da una rete. Ma se vuoi palucchi a pallin, a santa e il è un giovanì. E se la santa non partete, ma la longa peda rete. Ma se vuoi palucchi a pallin, a santa e il è un giovanì. Ma se vuoi palucchi a pallin, a santa e il è un giovanì. Ma se vuoi palucchi a pallin, a santa e il è un giovanì. E un bel applauso se lo vuole. Aurora e Sofia. Avvicinatevi a me che mi fate diventire un po' beato fra le donne. No, comunque mi piaceva la posizione che hai vivido prima, no? Quella così. Eh? Eh, da gusto, eh. Molto chic. Ma io vi voglio fare una domanda, allora. Che è successo, che è successo? Ah, Sofia, Sofia. Ti sei emozionata perché dicono questo, no? Oddio, guarda, guarda, oddio. I fan, guarda, non se ne possono più. Gli autografi dopo, ha detto, per favore, eh? No, ecco. Io voglio farvi una domanda. A chi è venuta in mente questa canzone? È venuta in mente a mio padre che questa sera ringrazio vivamente. Oddio, bellissimo, questa cosa è bellissima, eh. Invece a te voglio fare un'altra domanda. Ma a chi la volete dedicare questa canzone? Questa canzone la vogliamo dedicare a Sfere d'Oro e a tutti i cittadini di Sant'Egidinsi. Bellissimo, eh, bellissimo. Noi vi ringraziamo. Si può prendere i microfoni, grazie. Perché facciamo salire qui sul palco Patrizia che vi premia. Un attimo che vi facciamo prendere un bel premio, eh. Vi facciamo prendere un bel premio, ecco a voi. Un altro bel applauso e le facciamo accomodare. Grazie. 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 Grazie.